La volontà era proprio quella di non strumentalizzare Giulia. Replica così la vice sindaca di Fossoa le accuse mosse dal gruppo di minoranza in comune Generazione Attiva Baldan Sindaco per aver mancato di sensibilità, dicono, nell'aver organizzato un concorso di bellezza e una manifestazione motoristica il 28 aprile nella zona industriale del paese, dove lo scorso novembre Giulia Cecchettin fu massacrata dall'ex fidanzato Filippo Turetta dopo una prima aggressione avvenuta a pochi metri dall'abitazione della ragazza Vigo Novo. Accuse mosse anche agli organizzatori che però vengono rispediti al mittente. C'è da dire anche, e l'ho preciso, che alla mattina quando ci siamo incontrati con gli organizzatori fra di noi abbiamo avuto un momento di raccoglimento ricordando questo fatto che non è stato proprio voluto farlo platealmente e poi nel pomeriggio, prima dell'inizio del concorso il responsabile di Miss Riviera del Brenta ha ricordato alle ragazze come ci si deve comportare proprio per il posto in cui stiamo facendo questa manifestazione. Sottolineo anche che Miss Riviera del Brenta durante l'anno fa tutta una serie di attività proprio contro la violenza sulle donne. Lo ritengono stucchevole tentativo di strumentalizzare un dramma che ha particolarmente scosso la nostra comunità per questioni politiche. Non è questo il contesto, penso che le azioni che dobbiamo fare siano diverse, non abolire le manifestazioni. Calore si chiede inoltre come mai l'opposizione si sia fatta avanti solamente a poche ore dall'evento e non a suo tempo quando invece era stato annunciato e aggiunge Noi con i cittadini parliamo costantemente e io vi garantisco che in questa settimana non ho trovato una sola persona che mi abbia detto avete fatto male. Tra l'altro, come diceva anche il sindaco, la manifestazione ha coinvolto circa 20.000 persone, la maggior parte persone giovani che non hanno mai posti dove potersi incontrare e aggregare. La festa è andata benissimo, c'è stato il drift, la zona del fuoristrada, la zona street food, c'è stata una grande allegria, quindi abbiamo celebrato la vita e la speranza e mi permetto anche di dire a questo punto, anche se in maniera del tutto strumentale l'hanno tirata fuori loro, a questo punto la dedichiamo proprio alla nostra Giulia, questa bellissima giornata di festa.